Siamo qui con Francesco Fabio Pisani, chef del luogo di Aimo e Nadia, ristorante storico di alta cucina milanese, qui con il progetto Arca di Inoxpiu e gli chiediamo innanzitutto che cosa ha portato il luogo di Aimo e Nadia come piatto. Ringrazio prima di tutto per l'invito. Noi abbiamo portato un risotto Carnaroli della cascina Casalina, un riso semi-integrale a base di olio extravergine d'oliva, cappero di pantelleria, una riduzione di scampo e l'abbiamo mantecato con della stracciatella, il tutto condito con un pomodorino appeso al profumo di origano di pantelleria. Ecco, hai detto che hai usato il riso di una cascina che è qui presente in via Tortona. Come vi siete trovati a lavorare con questo ingrediente? Allora, questo ingrediente, il riso è veramente eccezionale. Tiene la cottura. È un riso che non è stato trattato e quindi è stato, igienicamente parlando, è perfetto. È un riso che per la nostra cucina si avvicina tantissimo e quindi è in sintonia con la nostra filosofia. È da assaggiare. Ecco, visto che siamo al fuorisalone, ci sono delle connessioni tra alta cucina e il mondo del design? Allora, sicuramente la cucina è vicina al design. Noi, ad esempio, anche questo piatto, quando lo abbiamo pensato, c'è dei colori, dei gusti che conquistano alla prima vista. E quindi anche la tecnica che noi utilizziamo, che è quella di aggiungere nel finale la burrata, è un modo per fare qualcosa di diverso, ma si avvicina perché il pensiero, quando uno pensa a qualcosa, è sempre in linea con quello che il cliente può vedere da subito. E quindi è come il design con l'arte che conquista il cliente per l'innovazione. Ecco, quanto è importante andare anche a curiosare in una situazione come questa, nel mondo del design per uno chef, quando deve poi inventare un piatto e deve inventarne anche la forma? È importante perché molte volte l'ispirazione ti aiuta. Noi, io e Alessandro, un altro giorno eravamo in giro per il salone e abbiamo visto, ad esempio, come ti dicevo, una luce con tanti colori che si avvicinava un po' al nostro piatto e ci è venuta anche l'idea di aggiungere qualcosa. Quindi era in linea con noi, ci ha dato l'ispirazione per creare qualcosa di nuovo. Quindi questo è magnifico. Ecco, state lavorando proprio nel bel mezzo della zona del fuorissalone, con molta gente che passa, designer, architetti e curiosi da tutto il mondo. Com'è questa esperienza di trovarvi per strada a contatto con la gente? Noi qui vogliamo far conoscere quello che noi facciamo a tutti, che molti giovani non riescono a venire nel nostro ristorante. Ecco, noi qui ci avviciniamo proprio alla gente, come fanno i giovani dal design, che sono disponibili, sono vicini a tutti. E quindi questo è quello che è il futuro, avvicinare tutti a questo mondo che molta gente pensa che è un mondo lontano o surreale. Noi siamo con la gente, bello. Abbiamo qui Davide Paolini, critico gastronomico, voce del food su Radio 24, autore di una rubrica sul domenicare del sole 24 ore, sempre sul cibo. Passeggiando qui in via Tortone, ma è nell'epicentro della zona del design, che impressione ti sei fatto? Devo dire che è una grande kermesse, secondo me, che fa benissimo alla città di Milano. Magari ce ne fossero tante di queste kermesse, anche perché il design è un fatto importante per il made in Italy. Però devo dire che dietro questo design ovunque trovo cibo e quindi trovo pane per i miei denti, perché ci sono in angoli di degustazione, non c'è stand o luogo dove non ci siano cuochi che cucinano e fanno vedere i loro prodotti. Quindi credo che poi il design con il cibo, secondo me, si sposa molto bene. Food e design sono un'abbinata importante, soprattutto per il made in Italy, e credo che gli stranieri che vengono a visitare il design appunto a Milano, questa grandissima manifestazione, poi scoprono anche quello che è un'altra grande vocazione che è il cibo e il vino. Ecco, la presenza di cascine che rappresentano in qualche modo il territorio lombardo e le eccellenze lombarde. Possono essere d'aiuto, possono essere trainanti in qualche modo per raccontare anche a un pubblico straniero che viene un po' da tutto il mondo le eccellenze lombarde. Milano e la Lombardia di solito sono viste come un qualcosa solo di industriale, di acciaio, di mobili, di tessuti. In realtà il territorio lombardo è ricchissimo di formaggi e di salumi, addirittura i formaggi, diciamo che le nomenclature di formaggi, il numero dei formaggi diversi della Lombardia è il numero uno in Italia per regione. Quindi ci sono delle grandissime scoperte da fare in questo territorio lombardo. C'è questo interland milanese molto ricco di cascine, di vini, di prodotti, di cibi, di trattorie. Quindi secondo me è una grandissima scoperta. Se magari il visitatore di queste manifestazioni poi rimanesse un giorno in più e andasse a fare un giro a pochi chilometri da Milano, si accorgerebbe della grande realtà. Magari berrebbe anche il latte direttamente dalle mucche.